Ciao a tutti, popolo del tubo, benvenuti in questo nuovo e veloce vlog ragazzi. Oggi voglio, come da titolo, informarvi su ciò che riguarda l'Assision Mod su Farming Simulator 19. Che cosa sappiamo fino a oggi ragazzi? Fino quindi oggi, oggi siamo insomma agli inizi di gennaio. Che cosa si sa dell'Assision Mod? Innanzitutto, sappiamo, grazie alla pagina ufficiale di Realismus Modding, soprattutto la pagina Facebook, sappiamo che stanno ufficialmente lavorando alla mod e sappiamo che ci saranno già delle novità, delle succose novità, tra cui quelle che appunto loro hanno fatto vedere. Praticamente verrà cambiato il sistema di crescita delle erbacce e questa per me è una cosa molto positiva. Perché? Perché le erbacce di Farming Simulator 19 crescono a caffo, diciamolo ragazzi. Crescono a strisce, crescono metà campo sì, metà campo no, crescono a caso, senza analogica, ari coltivi dopo un secondo sono cresciute. Cioè, è fatto veramente male il sistema crescita delle erbacce, i signori Giants l'hanno fatto male, ma per fortuna arrivano sempre i nostri amici modder. Quindi come potete vedere da questa immagine qua, le erbacce cresceranno un po' come nella realtà, diciamo. Non più tutte pare, tutti insieme, ma cresceranno a mucchiettini, 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 pezzettini che poi piano piano andranno a invadere tutto il campo. Questo si vede bene dalla prossima immagine che hanno rilasciato gli amici di Realismus Modding. Come potete vedere, le erbacce cresceranno a puntini, a pallini e piano piano, se voi vi disinteressate di queste erbacce, di questi puntini, piano piano il campo verrà invaso totalmente dalle erbacce. E finalmente c'è un senso. No che io aro, faccio, coltivo, in un attimo, vum, tutto il campo pieno di erbacce. Ma che è? Che è l'erbaccia istantanea? Ma che è? Superman? Ma che cacchio è? Cioè, e finalmente, meno male che ci pensano sempre i modder ad aggiustare le cose su farming. Ovviamente questi screenshot li potete vedere anche in alta risoluzione, un po' meglio, insomma, diciamo, sulla pagina Facebook di Realismus Modding. Non si conosce ancora una data d'uscita. Andiamo avanti con gli screenshot. Questo è un bellissimo tramonto primaverile, come potete vedere. Lo so che è in bassa risoluzione, però vi fa vedere che loro già, col cielo dinamico, stanno lavorando ancora meglio all'ambientazione, all'ambiente intorno. E poi l'ultimo screenshot, che forse è la novità più figa di tutti, ragazzi. Vabbè, la neve, lo sapevamo che la season metteva la neve e tutto quanto, ma guardate, i mezzi avranno il dirt a seconda della stagione. Quindi, se voi andate a camminare sulla neve, i mezzi non si sporcheranno. A parte che non so perché uno dovrebbe liquamare sopra la neve, però vabbè, i mezzi non si sporcheranno di terra, ma si sporcheranno di neve. Il dirt sarà neve. Guardate che cosa spettacolare. Sta novità, ragazzi, ma rapa troppo sta cosa. Cioè, è bellissima, è bellissima, ragazzi. Sono super motivato con sta season, quindi io non vedo l'ora, non vedo l'ora di avere la season. Ovviamente io sono sempre qui pronto ad informarvi quando uscirà, come uscirà, se c'è qualche novità. Le prime cose che sapremo ve le dirò, quindi voi state tranquilli. Quando voi siete iscritti da RobyMell, state tranquilli che non c'è bisogno che aprite Google e andate a fare le ricerche, perché se c'è qualcosa ve lo dico io sul mio canale. Poi ragazzi, leggendo l'apposito triad, parliamo proprio come parlano quelli professionali, leggendo l'apposito triad sul forum della Giants, c'è appunto una sezione proprio fatta apposta per la season, dove appunto gli sviluppatori stessi rispondono alle domande degli utenti, abbiamo avuto la conferma che il gioco ci sarà anche, cioè che la mod, scusate, ci sarà anche su PS4. Loro dicono che stanno appunto lavorando anche su PS4, non sanno però se ci saranno tutte le funzionalità che ci saranno sul PC, loro dicono di sì, stanno lavorando. Però insomma bisogna sempre capire che ci sono delle regole molto rigide su console messe da Sony e Microsoft che la Giants è costretta appunto a rispettare, quindi non è colpa della Giants per cui non escono tante mod su console, né dei modder, quindi sfatiamo sto mito, ma ci sono delle regole molto ferre, molto strette, e questo vale per tutto il modding, per GTA, per Skyrim, per tante altre, per Minecraft, per tanti altri giochi, quindi non solo per farming, perché praticamente tutto ciò che è script aggiuntivo, tutto ciò che non sono script originali del gioco, non possono venire accettati su console. Ma ripeto, questo non c'entra niente né coi modder né con la Giants, sono proprio regole di Sony e Microsoft. Però ecco appunto qui abbiamo letto che ci sarà comunque la Season su console e questa già è un'ottima notizia. In più aggiungono anche, ho letto sul forum, che ci sarà un nuovo sistema anche per la Fienagione. Finalmente diventerà molto più realistica anche la Fienagione, ovvero quando andremo a fare le andane di Fieno, cioè quando passiamo con il Volta Fieno, che andiamo a rivoltare il Fieno, il Fieno avrà bisogno di un po' di tempo di riposo sul campo sotto il sole, per diventare Fieno. Quindi deve essere appunto essiccato, non come in farming di default che passi, pum, diventa Fieno con un secondo. Istantaneamente Fieno, no. Come nella realtà dovremmo lasciare il Fieno voltato, l'erba voltata sotto il sole per un po' di tempo, che ancora loro non sanno, stanno insomma decidendo, stanno facendo. Dovremmo lasciare il Fieno per un po' di tempo sotto il sole affinché diventi appunto Fieno, l'erba affinché diventi Fieno. Se ci piove sopra rischia di marcire, quindi rischia di marcire e di scomparire. Quindi anche questa sarà una novità spettacolare per la nuova Sision. Quindi ragazzi, se non siete iscritti iscrivetevi, se siete iscritti mi raccomando attivate la campanella, è per quello che non vi arrivano le notifiche. Ci sono due tipi di attivazioni campanella, riceverai alcune notifiche o tutte le notifiche. Mettete tutte le notifiche, ragazzi, mi raccomando, in descrizione tutti i miei social, se vi serve aiuto per domandarvi qualcosa, eccetera, eccetera. Il link è per comprare i giochini scontali di Sista Gaming e per diventare supporto del canale, per fare una piccola donazione, che ce n'è sempre bisogno. Ragazzi, evviva Realismus Modding e viva la Sision Mod. Ci vediamo alle prossime news, se non appena ci saranno. Ciao!